Anzitutto vi devo dire che sono uno di quei cretini che pensa che l'essere umano può cose impossibili, abbiamo delle possibilità inaudite come esseri umani, insomma sono uno di quelli che crede che con la volontà uno può veramente migliorare se stesso. Possiamo quindi considerare la vita come una sorta di passaggio verso qualcos'altro, quindi un momento più grande, ma Franco Battiato ha paura della morte, di sapere che cosa c'è dopo? Per niente, per niente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.